buongiorno amici e amiche buon martedì 25 aprile 2023 oggi festa di san marco evangelista ascoltiamo e commentiamo il vangelo secondo marco capitolo 16 versetti 15 20 gesù apparve agli undici e disse loro andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo a ogni creatura chi crederà e sarà battezzato sarà salvato ma chi non crederà sarà condannato questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome scacceranno demoni parleranno lingue nuove prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà il loro danno imporranno le mani ai malati e questi guariranno marco da seguace di gesù ha realizzato quella missione che il signore ha consegnato e che marco stesso riporta andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo a ogni creatura chi crederà e sarà battezzato sarà salvato questo vangelo oltre a rientrare nei vangeli canonici detti ispirati è stato tradotto in quasi tutte le lingue fino a noi oggi è curioso che la bibbia sia il testo ancora più venduto e stampato al mondo ma siamo sicuri che questo basti per dire che tutti hanno sentito parlare di gesù e che tutti sono battezzati mai darlo per scontato nemmeno nelle nostre famiglie ancora oggi molti non sono battezzati e non conoscono gesù anche tra i moderni cristiani si diffonde la diabolica usanza di non battezzare più i bambini quale salvezza potranno avere questi se moriranno senza aver potuto conoscere gesù e senza poter sperare nella vita eterna che il signore ha promesso per chi crederà in lui in questo una verifica ce la dobbiamo fare tutti noi cristiani anche sedicenti cattolici impegnatissimi che testimonianza bella diamo di dio in cosa stiamo sbagliando se qualcuno sceglie di non credere in gesù e di interrompere la trasmissione della fede e tu come ti sta impegnando a trasmettere la fede buona giornata a tutti